Bene, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. La sua specialità di ricerca sono i rivelatori, nell'ampio spettro in cui questi sono utilizzati. Si va dalla fisica medica a Agile, che quindi è una sonda che studia, non c'è più. È rientrato il giorno di San Valentino di quest'anno e è andato in mille pezzi, perché l'hanno fatto rientrare a posto. Ah, ok, quindi si è disintegrato in atmosfera e osservava i raggi gamma, giustamente. Io pianto tanto quando è partito e pianto tanto quando è partito. Quindi l'emozione. Ho capito. Ma poi, diciamo, c'è una cosa in cui lei si distingue particolarmente, che è anche nell'aspetto della divulgazione, appunto, che ho visto un po' così i curriculum. E ne ha dato prova, insomma, anche nelle volte che è stata qui da noi, con delle conferenze molto interessanti. E quest'anno ci presenta quest'argomento, troppo belle per il Nobel. Punto di domanda. Già che ci sono, mi faceva notare il nostro commentatore, noi abbiamo anche un cineforum, e quindi ve lo annuncio subito, perché noi, tra due settimane, il 9 novembre, Sala Montanari, abbiamo il film I Pazia. I Pazia era una scienziata dell'antichità, molto bella, purtroppo non è andato tutto bene, insomma. Quindi un po' si collega a questo discorso. Dopo questo appuntamento, scusa, anticipo il fatto che il 22 novembre, invece, finisco io con il ricordo di Salvatore Furia, di cui celebriamo quest'anno il centenario dalla nascita, con vari eventi. In particolare, in questa sala, io parlerò per un'ora di Salvatore Furia, della straordinaria avventura di quest'uomo, che non è stato solo quello dei pensieri positivi del Gazzettino Padano, ma soprattutto realizzatore della cittadella di Campodei Fiori, del Centro Geofisico Prealpino e tante altre imprese straordinarie. Bene, allora ti lascio la parola, grazie ancora. Grazie a voi. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti, onoratissima di essere di nuovo qua con voi, dopo le altre volte che sono stata. Mi presento, nel senso che, se collabora, abbiate pazienza perché la tecnologia... La tecnologia non sempre aiuta. Dov'è il tecnologo di turno qua? In verde siamo in verde. Adesso sì. Ok. Allora, io sono un fisico, nella fattispecie, sono un fisico sperimentale delle particelle elementari. Cioè, sono uno di quei fisici che disegnano gli occhiali, tra virgolette, per osservare la natura, capire come funziona e utilizzare quello che abbiamo capito per migliorare la vita di tutti quanti. Questo è il mio mestiere. Però io lo so che, se vado in giro per qualsiasi città, e molto spesso, anche per molte classi delle scuole superiori, chiedendo a tutti che cosa pensate della fisica, le espressioni che mi aspetto sono più o meno queste. Po' perché tutti pensano alla fisica che è stata raccontata a scuola, e spesso, qualche volta, non lo so, magari neanche così tanto bene. Però, la prima cosa che voglio dirvi è che stasera io non vi parlo di fisica, non vi farò vedere formule, non vi parlerò di modelli, vi parlo di una cosa diversa. La seconda cosa che voglio dirvi è che, nonostante il titolo in qualche modo lo ricordi, questo non sarà un proclama femminista, proprio per niente. Io di mestiere faccio la scienziata, quindi la mia idea in quest'ora è fare un ragionamento con voi, partendo dai numeri, perché gli scienziati partono dai numeri, sul perché le scienziate donne sono poche, ma soprattutto sul perché le ragazze si iscrivono ancora poche, in un numero basso, ai corsi di laurea scientifici. E per farlo, non solo partirò dai numeri, ma vi racconterò anche delle storie, perché da queste storie di donne che hanno cambiato la vita dell'umanità, estrarremo degli elementi che poi ci torneranno utili quando riprenderemo la discussione finale. Allora, innanzitutto vi dico da dove è nato tutto questo. Io sono un'appassionata di divulgazione, ma anche di quello che gli inglesi chiamano education. Cioè, a me piace lavorare con i ragazzi e i bambini di tutte le età. Con i bambini in particolare perché i bambini hanno questa capacità di osservazione incredibile che li porta a fare domande. E fare domande è molto più difficile che cercare risposte. Questa qui è una foto di una nostra notte dei ricercatori. Questa è una classe di una scuola dell'infanzia. Quell'anno avevamo fatto un accordo con la SF di Como, per cui loro sono stati caricati dal pullman gratuitamente, dall'autobus di linea all'uscita delle mura della città e portati nella piazza dell'università. E questo cucciolo mi stava raccontando che lui da grande avrebbe fatto l'autista dei pullman. E questo era assodato. Quindi la SF aveva raggiunto quello che voleva. Allora, la prima volta che abbiamo fatto la notte dei ricercatori, abbiamo organizzato la notte dei ricercatori, è stata il 2013. E nel 2013 abbiamo chiesto a tutti i bambini della scuola primaria, ai ragazzini delle scuole medie, di farci un disegno intitolato secondo me lo scienziato è fatto così. Abbiamo raccolto 431 disegni di cui solo 82 riportavano delle scienziate donne e non tutti erano fatte da ragazze o da bambine. Scienziate che andavano dallo stile strega alla velina con lo stacco di coscia da due metri e mezzo. Quindi c'era veramente una grande varietà. A quel punto abbiamo ragionato che c'era un problema e abbiamo cominciato a entrare nelle classi, a fare attività nelle scuole primarie, con bambine e bambine quindi. E siccome io ero la capogruppo di questo gruppetto che faceva le attività, i disegni sono cambiati in maniera profonda. Vi racconto un aneddoto di questa attività nelle scuole primarie. Una mattina, classe prima di una scuola primaria, lunedì mattina ore 8 e 30, entriamo in questa classe per fare esperimenti sull'acqua. Ovviamente la classe è in stato veramente entusiasmo puro, tranne un bimbetto biondo con i capelli a spazzola seduto in primo banco. Gli do un nome di fantasia perché ormai questo bimbetto ha l'età per essere qua, quindi chiamiamolo Marco. Serissimo, neanche mezzo sorriso. Allora gli ho chiesto Marco cosa c'è, mi sono fatta dire il nome, gli ho chiesto Marco cosa c'è che non va. E lui mi fa, le maestre avevano detto che venivano gli scienziati. E siccome nell'immaginario dei bambini gli scienziati hanno il camice, come quando si va in laboratorio di chimica, ho pensato, vabbè, noi il camice non ce l'abbiamo. E gli faccio, certo Marco, io mi chiamo Michela e sono una scienziata, lui si chiama Eric ed è uno scienziato. Lui mi guarda e fa, gli scienziati sono maschi. Stiamo parlando di un bambino di sei anni. Ora, partiamo da qua. Avrei potuto scegliere qualsiasi foto dei Nobel. Questa è la foto dei premi Nobel del 2017. Donne zero, fino al 2017, praticamente quasi donne zero. Nel 2018 abbiamo pensato, cambia la nostra vita, quattro donne premiate, di cui due scienziate, una in fisica e una in chimica. Poi a quel punto siamo tornati che o non premiano nessuna o al massimo ce n'è una. Nel 2023 siamo tornati a quattro donne premiate, due scienziate, una in medicina e una in fisica. Quest'anno un'unica premiata, niente in scienze, in letteratura. Se andate a guardare il numero totale di premi Nobel assegnati, che sono 1.012, considerando anche il 2024, considerando sia i premi Nobel assegnati ai singoli che quelli assegnati alle associazioni, di questi solo 66 sono stati assegnati alle donne, il che vuol dire 6,5%. Vero? Voi potreste dirmi, guarda, se confronti questi 24 anni con questi 23 anni, beh, c'è una certa differenza, concordo. C'è un'inversione di trend? Sì, però di una lentezza esasperante. E per fortuna che esiste il premio Nobel, questo fino al 23, per la pace, per la letteratura e per la medicina. Perché se guardiamo le scienze, e in particolare una scienza dura come fisica, 5 premi su 220. Vero è che Marie Curie ha preso il premio sia in fisica che in chimica, però 5 premi su 220. È un numero veramente basso. Eppure le ragazze ci sono, sono poche. Magari io sono fortunata, vengono tutte a lavorare nel mio gruppo, però queste sono immagini di noi che lavoriamo al CERN. Questa è la responsabile del progetto di cui anche il mio gruppo di Como fa parte. Questa qua è una foto di circa due anni fa. Questi tre ragazzi hanno vinto un premio al Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica per il lavoro che hanno presentato. Due di questi sono donne. E questa, quell'anno, ha fatto il concorso di dottorato. È arrivata prima staccando i suoi colleghi maschi di una spanna. Quindi le ragazze ci sono. Dal marzo del 2020 io ho laureato sette ragazze e nove ragazzi, che sono abbastanza equilibrati. E perché poi allora non mi trovo donne scienziate? Vado avanti. Se considerate l'Education and Training Monitor, che è una pubblicazione che ogni anno la comunità europea fa, tra le altre cose che guarda all'interno di questa pubblicazione c'è la percentuale di laureati tra le persone che hanno tra i 30 e i 34 anni. In tutti, in tutti i paesi europei, nessuno escluso, le donne si laureano più degli uomini. In Italia, che fa ovviamente da fanalino di coda, lo sappiamo, la penultima come numero di laureati, eccetera, 28,3%, la distanza percentuale tra le donne e gli uomini è di 12 punti percentuali. Noi siamo al 28,3% perché ci sono le donne. E perché non ci sono donne scienziate? Allora, le donne scienziate, quando parliamo di donne scienziate che possono vincere il premio Nobel, ma qualunque altra cosa, parliamo di gente che fa ricerca. La ricerca si fa anche nelle aziende, ma fondamentalmente nelle università e negli enti di ricerca. Esiste un'altra pubblicazione che viene fatta ogni tre anni dalla comunità europea, che si chiama She Figures, che tra le altre cose fa vedere questo diagramma forbice. Qua non parliamo di scienza, parliamo di tutti gli ambiti, sia umanistici che scientifici. Questo diagramma fa vedere la percentuale di uomini e donne, qua confrontato tra il 2013 e il 2022, in una carriera accademica, che vuol dire sia università che ente di ricerca. Laurea, quanti si iscrivono, quanti si laureano, dottorato, ricercatori, professori associati o equivalenti, top della carriera, professori ordinari o equivalenti. Diagramma forbice perché si iscrivono e si laureano più donne, sui dottorati siamo più o meno uguali, e poi ci separiamo. Tanti uomini, poche donne. È vero che c'è una differenza tra il 2013 e il 2022, sono dieci anni, la differenza sono sei punti percentuale. È un numero veramente basso. Cosa succede? Se vado a considerare le scienze e l'ingegneria, invece che considerare tutto, non ho più il diagramma forbice, ho due linee. Si iscrivono più ragazzi, prendono il dottorato più ragazzi, ci sono più ricercatori uomini, più professori associati uomini, più professori ordinari uomini. La differenza qua, anche qui, 77% uomini, 23% donne, variazione del 6% in dieci anni. È un numero veramente piccolo. È una variazione veramente lenta. Perché? Perché? Io le ho, le ragazze, le bambine, avete visto le foto, sono tanto entusiaste quanto i loro colleghi maschi. Allora, per capire perché, io vi racconto delle storie. Vi racconto quattro storie in totale, per poi ritornare a questi numeri. Ho scelto, avrei potuto sceglierne tante diverse. Ne ho scelte quattro, molto particolari, e tra le altre di queste quattro, una sola è una fisica. La prima non lo è. Io parto da qua, da Rosalind Franklin, che molti di voi conoscono. Chi non la conosce, e anche chi la conosce, mio consiglio spassionato è di leggere la biografia, perché merita, letta la sua biografia. Rosalind Franklin nasce nel 1920 in Inghilterra, da una famiglia ebrea della ricca borghesia, che vuol dire che aveva la possibilità di studiare, si laurea in biochimica nel 1941, e poi comincia a lavorare in un'università, e se ne va subito, però, perché questo professore, che poi vincerà il premio Nobel, lei dice, è assolutamente egocentrico, permaloso, non si può lavorare con uno così. Nel periodo della guerra, lavora per l'Associazione Britannica del Carbone, e poi nel 1947 si trasferisce a Parigi. Si trasferisce a Parigi a lavorare con una persona molto esperta di una tecnica che si chiama cristallografia a raggi X o diffrazione a raggi X, e lei stessa diventerà esperta. Quando a noi ci parlano di raggi X, a noi viene in mente subito la radiografia, cioè noi i raggi X li conosciamo perché ci fanno la radiografia. Quando li hanno scoperti, 1895, ottobre del 1895, Rentgen, che era rettore di un'università tedesca, stava lavorando in un laboratorio, a quel tempo i rettori lavoravano in laboratorio, stava lavorando in un laboratorio con un tubo catodico, il contenuto di una vecchia televisione, quelle che pesavano un quintale, per intenderci, e si era accorto che ogni volta che lo accendeva, nell'angolo del laboratorio, dove c'era uno schermo fluorescente di bario, che doveva illuminarsi solo se colpito dalla luce, paf, quello si illuminava. Ma non c'era luce, la luce era spenta, si chiude il laboratorio per tre mesi, e il 23 dicembre del 1895 esce con questa, la prima radiografia della storia, la radiografia della mano di sua moglie Berta. Questo farà il giro del mondo, questa è la partenza di tutto quello che è la radiologia diagnostica come la conosciamo oggi, nel 1901 lui vince il primo premio Nobel per la fisica. E noi i raggi X li conosciamo così, raggi che ci attraversano, una parte si ferma nella parte densa del nostro corpo, ad esempio le ossa, una parte passano attraverso i tessuti molli e vanno a illuminare la lastra, piuttosto che qualsiasi altro rivelatore si usi oggi. Ma con i raggi X si può fare una roba diversa, perché se si prendono dei raggi X che hanno un'energia abbastanza elevata, si può ottenere un'immagine particolare degli oggetti, e cioè, quando voi dovete costruire un farmaco che deve entrare in una cellula, non potete solo sapere di che atomi è fatto quel farmaco, dovete sapere anche come sono messi, perché se sono messi in maniera tale che sono troppo larghi per la porta, non passano per la porta e non entrano nella cellula. Devo sapere la posizione degli atomi. Allora cosa faccio? Prendo il mio farmaco, lo illumino, lo faccio sotto forma di cristallo, lo illumino con i raggi X e ottengo un'immagine che si chiama pattern di diffrazione che non dipende dai raggi X, ma dagli atomi all'interno di quel farmaco. Con algoritmi matematici trasformo questa immagine in una mappa di densità elettronica e scopro esattamente in che posizione stanno gli atomi. Lei è diventata esperta di questo, capire dove stanno gli atomi in una struttura invisibile. Nel 1951 torna in Inghilterra e comincia a lavorare al King's College di Londra con un capo che si chiamava Randall che decide di metterla a lavorare sul DNA. A Cambridge c'erano già due scienziati che lavoravano sul DNA che si chiamavano Watson e Crick. Lui la mette a lavorare sul DNA e gli affida anche uno studente, Gosling. Peccato che questo studente fosse già affidato a un altro tizio che era questo ricercatore di nome Maurice Wilkins che in quel periodo era in vacanza. Quindi lui piglia lo studente di Wilkins, lo mette con Rosalind Franklin senza dirlo a Wilkins che diciamo che non l'ha presa proprio benissimo per essere chiari. Lei comincia a lavorare e nel 1951, l'anno in cui ha cominciato, ha fatto con la diffrazione a raggi X questa fotografia, nota come fotografia 51. Per me questa immagine usando i raggi X è una delle immagini più belle della storia dell'umanità. Questa è l'immagine di un pezzettino di DNA e noi qua vediamo immediatamente la doppia elica che ci hanno insegnato a scuola. Peccato che a quel tempo non si sapesse. Allora lei cosa dice? Secondo me il DNA ha una forma elica e si fa anche dei conti per una commissione che sarebbe poi andata al King's College a vedere che cosa diamine facevano al King's College. Nel gennaio del 1953 uno dei due di Cambridge, Watson, passa al King's College e Wilkins sottrae dal cassetto la fotografia 51 e gliela dà. Il mese dopo il report che lei aveva scritto con i conti che aveva fatto perché si era, aveva capito che stava lavorando con qualcosa che avrebbe avuto la forma di una doppia elica i conti che lei aveva fatto vengono dati a Crick. Qual è stato il risultato finale? Che Watson e Crick capiscono, costruiscono, ricostruiscono la doppia elica, cioè la struttura del DNA scrivono un articolo che viene pubblicato su Nature nel 1953 l'articolo scritto da Rosalind Franklin e da Wilkins viene bloccato dal loro capo Randall e viene pubblicato per secondo. Lei non se la prende se ne frega se ne va va a lavorare da un'altra parte su un altro argomento nel 1958 muore a soli 37 anni per un tumore alle ovaie probabilmente causato dall'esposizione ai raggi X a quel tempo la radioprotezione non era ancora al suo apice nel 1962 Watson, Crick e Wilkins vincono il premio Nobel per la medicina per la scoperta della struttura doppia elica del DNA nelle loro Nobel lecture potete andare a leggerle né Watson né Crick citano Rosalind Franklin Wilkins cita una serie di persone che hanno collaborato al progetto e uno dei nomi è Rosalind Franklin e la cosa finisce lì peccato anzi per fortuna questo signore qua Watson era un tipo un po' particolare diciamo così e nel 1968 pubblica un libro che si intitola La doppia elica storia della scoperta del DNA e stupidamente perché è proprio stupida questa cosa all'interno del libro se la prende con Rosalind Franklin che era morta da dieci anni la chiama Rosi la bisbettica si veste male sai che c'è ha pure il coraggio di fare domande oppure di fare degli interventi e a un certo punto del libro dice non ci ha mai dato i dati e nemmeno la fotografia a quel punto il mondo scopre che gli erano stati rubati e la figura di Rosalind Franklin è stata ha recuperato la posizione che gli aspettava lui è andato in disgrazia lui a un certo punto ha fatto altre affermazioni poi razziste che è meglio lasciar perdere però ha cercato di vendere persino la medaglia del Nobel perché era rimasto senza soldi ha venduta alla fine ok proprio era rimasto senza soldi Rosalind Franklin ha cambiato la nostra storia il 28 giugno del 2000 del 2000 Bill Clinton annuncia al mondo la prima decodifica del genoma umano tutto questo è nato dalla fotografia 51 di Rosalind Franklin andrebbe urlato ad alta voce vi faccio un altro nome che forse molti non conoscono questa era una storia triste adesso vi racconto una storia bella tutti sappiamo cos'è la penicilina e anche la vitamina B12 tutti noi probabilmente abbiamo preso penicilina e vitamina B12 nella nostra storia ora questa signora questa scienziata di nome Dorothy Crawford Hodgkin nata in Egitto da due genitori archeologi si trasferisce poi in Gran Bretagna a Oxford studia prende il dottorato poi ritorna a Oxford del 1934 e comincia a lavorare a mettere in piedi un laboratorio per la cronaca nello scantinato le scienziate donne nel 1900 esbrega ma anche prima tutti i loro laboratori stavano nello scantinato magari anche con una porta secondaria per entrare lei comincia a lavorare anche lei è un'esperta della diffrazione a raggi X a quel tempo adesso passare da dal pattern di diffrazione alla mappa di densità elettronica e a dove stanno gli atomi esattamente come vediamo qua perché poi questo è quello che ricostruite con la diffrazione a raggi X si fa con un computer si sta un attimo a quel tempo i conti bisognava farli a mano non era altrettanto facile lei comincia a lavorare sulla molecola del colesterolo inizi degli anni 30 e riesce a trovare la forma della molecola del colesterolo caspita nonostante il laboratorio nello scantinato nel 1928 e questi lo conosciamo tutti Alexander Fleming scopre che la penicillina ha un effetto antibiotico peccato che non si può usare come medicina perché non è stabile a questo ci lavorano tre ricercatori di Oxford che dimostrano che può essere usato come medicina ma per la produzione di massa bisogna capire dove diamine sono posizionati gli atomi in questa molecola della penicillina e uno di questi ricercatori sfida la Hodgkin e lei ci mette quattro anni ma alla fine scopre la struttura della penicillina ci vorranno altri 11 anni perché lei diventi professore a Oxford e 12 anni perché gli diano un laboratorio nell'edificio e non nello scantinato dopo 8 anni scopre la struttura della vitamina B12 che noi usiamo regolarmente molti di noi hanno preso utilizzando il primo computer sviluppato da Alan Turing questo è stato un boom per la società scientifica di allora e dopo nel 1969 dopo 35 anni riesce a scoprire la struttura dell'insulina e questo ha permesso la produzione di massa dell'insulina Dorothy Crawford Hodgkin è la responsabile del fatto che l'insulina può essere utilizzata tutto questo lavoro che lei ha fatto è stato premiato col premio Nobel giusto 1964 lei riceve il premio Nobel e questo è il secondo elemento che voglio sottolinearvi oggi e i giornali inglesi il giorno dopo intitolano il premio Nobel dato a una moglie inglese vogliamo parlarne? il linguaggio è un problema il linguaggio crea stereotipi faccio un salto all'indietro perché di una fisica almeno dovevo parlarvi faccio un salto all'indietro e vado a un'altra donna che ha cambiato la storia dell'umanità qualche anno prima Lise Meitner Lise Meitner nasce a Vienna nel 1878 lei avrebbe dovuto finire di studiare a 14 anni perché a quel tempo le donne non potevano andare né alle superiori né all'università quindi si iscrive a questo corso per diventare insegnante di francese di tre anni e prende il diploma nel 1899 in quell'anno la Prussia decide di aprire le università alle donne a quel punto lei recupera il tempo perso si iscrive all'università si laurea nel 1905 e prende il dottorato nel 1906 prima donna fisica teorica in Austria nel 1907 si trasferisce a Berlino perché voleva andare a seguire le lezioni di un fisico teorico top Max Planck arriva a Berlino e comincia a lavorare con un chimico otto anni anche lì laboratorio nello scantinato lei non poteva entrare nell'edificio principale entrava da una porta secondaria avete visto il film Il diritto di contare? stessa roba se doveva andare in bagno usciva faceva la collina in salita fino all'albergo in cima alla collina andava in bagno tornava indietro tanto per essere chiari poi lei era veramente una fisica di quelle toste veramente brava nel 1912 Planck la fa assistente e la fa entrare di diritto nell'edificio e nel 1926 diventa la prima professoressa donna di fisica in Germania e poi arriva Hitler e nel 1933 Hitler dice no basta le donne non possono insegnare però può tenersi in laboratorio e continua a lavorare con il chimico Hahn e si aggiunge un altro chimico che si chiama Strassmann quindi lei insieme mette insieme una serie di esperimenti analoghi a quelli che stavano facendo i ragazzi di via Panisperna capitanati da Enrico Fermi a Roma nel 1938 la Germania nette l'Austria e lei perde la cittadinanza austriaca e a quel punto capisce visto che lei era pure ebrea che forse era il caso di andare da un'altra parte prova a uscire ma non può perché il suo passaporto non funziona e fa una fuga rocambolesca che la porta a Stoccolma con sua nipote Frisch da questo signore qua nel laboratorio di questo signore di cui vi chiedo di ricordare il nome perché poi ci servirà che Mann e Sigma mentre là a Roma acquisivano dati e non capivano Otto Ann e Strassmann acquisivano dati e non capivano e quello che hanno fatto lei e sua nipote Frisch è spiegare scoprire dimostrare teoricamente la fissione nucleare quella che poi ha permesso di costruire reattori nucleari cos'è la fissione nucleare io prendo un neutrone lo faccio diventare lento 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 lo mando a sbattere contro un nucleo di uranio che è grosso un isotopo dell'uranio l'uranio 235 quello che è goloso si cattura il neutrone diventa troppo grosso si spacca in due nuclei figli e tra neutroni veloci che però se posso rallentare a loro volta possono andare contro altri nuclei di uranio 235 e fare una reazione a catena quello che darà origine la fissione nucleare come prima cosa è il progetto Manhattan e la bomba atomica che dovrebbe chiamarsi bomba nucleare perché l'atomo qua non c'entra niente ma quello che ha fatto lei dimostrando questo è ancora più fondamentale se qui ci fosse qualcuno che soffre di Alzheimer e non ha i sintomi potremmo intuirlo guardando la distribuzione dello zucchero nel cervello dei pazienti ma non gli posso fare una radiografia perché lo zucchero è trasparente ai raggi X allora cosa faccio prendo un radioisotopo cioè un isotopo che in natura non esiste perché decade e che ho costruito ad esempio in un reattore nucleare lo appiccico allo zucchero e tutti e due li appiccico a un carrier cioè qualcuno che va a bussare la porta della cellula e si fa aprire inietto nel paziente lo zucchero si distribuisce e il radioisotopo comincia a decadere ho trasformato il paziente in una sorgente radioattiva questa è l'ABC della medicina nucleare i raggi X la radiologia diagnostica mi permettono di vedere come è fatto il vostro corpo la medicina nucleare mi permette di vedere come funziona il vostro corpo e di vedere se ci sono punti troppo caldi o punti troppo freddi questo è il risultato del lavoro anche di Lise Meitner nel 1944 Anne vince il premio Nobel per la chimica per la scoperta della fissione nucleare lei no lei ha dimostrato la fissione nucleare Anne ha raccolto i dati infatti rimarranno amici per sempre non è causa di otto anni negli anni 90 sono stati resi pubblici i documenti dei comitati dei Nobel e Physics Today ha scritto un articolo in cui dice che l'esclusione di Meitner dal premio Nobel per la chimica può essere riassunto come una miscela di bias disciplinare ottusità politica ignoranza e odio il presidente del comitato dei Nobel era Manne Sigma che non la poteva soffrire gli altri dei cinque membri altri due erano suoi ex studenti diventati professori bias nell'assegnazione di un premio lei sarà candidata in 25 anni per 48 volte ai premi Nobel 29 per la fisica e 19 per la chimica non lo ha mai ricevuto non ha mai voluto partecipare al progetto Manhattan anzi è sempre stata molto critica nei confronti dei suoi dei suoi colleghi e ha fatto tantissimo per le ragazze per la scienza per portare le ragazze alla scienza in una lettera mandata ai suoi colleghi scienziati lei a un certo punto scrive avete lavorato tutti quanti per la Germania nazista e non avete provato nemmeno a fare resistenza passiva certo vi siete tacitati la coscienza facendo uscire qualcuno ogni tanto ma avete lasciato che milioni di esseri umani fossero assassinati senza la minima protesta Lise Meitner ha cambiato la nostra storia tre esempi un premio Nobel rubato un premio Nobel assegnato con un linguaggio che 1964 non è cent'anni fa che un po' fa piangere un premio Nobel mai assegnato per una persona che ha cambiato la storia adesso vi faccio vedere un'immagine e vi racconto un'altra storia l'ultima e questa immagine a me piace tantissimo perché io spero che questa immagine io ho una nipotina che ha otto anni che magari la scienziata non la farà però io spero che questa immagine sia l'inizio di una storia diversa quello di cui voglio parlarvi e non vi racconterò tutta la loro vita sono queste due scienziate Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna siamo giorni nostri Emmanuel Charpentier è nata nel 1968 in Francia si è laureata in ambito biochimico biologico genetico eccetera è stata negli Stati Uniti poi è tornata qua in diversi paesi d'Europa e dirige un centro di ricerca Jennifer Doudna è invece nata a Washington nel 1964 stessa storia dirige un centro di ricerca si incontrano in Portogallo a una conferenza nel 2011 decidono di fare due passi insieme e di prendersi un caffè nel 2020 Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier vincono il premio Nobel per la chimica per aver scoperto per aver sviluppato un metodo per l'editing del genoma a che ci serve ve lo spiego io non sono una biologa quindi la mia spiegazione è molto euristica pensate a qual è la maggior causa di morte degli esseri umani sulla terra che non è la guerra ma la malaria la malaria fa 830.000 morti all'anno gli uomini 580.000 e poi ci sono tutta una serie di animaletti simpatici dopo per i rimanenti allora come si trasmette la malaria la malaria è trasmessa da un parassita che si chiama plasmodio quindi la zanzara che è innocente poveretta punge un umano che ha il plasmodio e lo dà all'umano successivo che va a pungere il plasmodio entra entra nei globuli rossi li mangia si riproduce li mangia li distrugge malaria e le uniche zanzare che possono fare questa cosa sono le zanzare anoffele e la malaria è diventata endemica nei paesi poveri cioè nei paesi del sud del mondo come l'abbiamo combattuta? e abbiamo gli insetticidi ci prendiamo le pastiglie però quello che succede è che dal 2015 i milioni di casi di malaria hanno ricominciato a aumentare che vuol dire che il plasmodio è diventato più furbo di noi è un problema perché questi sono tanti casi in una zona molto povera del mondo adesso pensate di avere due zanzare una mamma e un papà ogni zanzara ha due coppie identiche del genoma uno che arriva ha due coppie non identiche ha due coppie del genoma uno che arriva dalla mamma e uno che arriva dal papà pensiamo che immaginiamo che la zanzara mamma abbia un gene blu nel suo genoma quando mamma e papà si accoppiano i figli hanno una probabilità del 50% di avere un gene blu questo ce l'ha insegnato Mendel e lo conosciamo tutti ora passiamo dal blu al verde e ipotizziamo che il gene verde sia quello che distrugge il plasmodio caspita sarebbe bello che tutte e due le coppie del genoma avessero il gene verde perché a quel punto una volta che si accoppiano sicuramente i figli hanno un gene verde e se anche per i figli posso fare in modo che il secondo la seconda coppia del genoma abbia lo stesso gene verde avrò una popolazione dove le zanzare hanno il gene verde che distrugge il plasmodio questa cosa si chiama gene drive sono io che dico al gene che colore deve diventare Doudna e Charpentier hanno capito come potevano fare e hanno proposto questa tecnica che si chiama CRISPR il CRISPR è fatto da due parti un enzima che sono le forbici che tagliano il DNA e un RNA guida che non è altro che il GPS quindi ho due pezzetti uno è il GPS che va a dire alle forbici dove andare a tagliare allora cosa faccio prendo mi metto un CRISPR nel centro di una sequenza di DNA che replica il genoma della zanzara lo inietto all'interno delle uova delle zanzare appena iniettato le forbici dicono qua si taglia e il GPS gli dice va a tagliare lì e il DNA viene aperto il DNA aperto non può sopravvivere e quindi deve cercare il modo di sistemarsi si guarda in giro vede quello che io ho costruito eccolo qua e dice sai che c'è? lo coppio e lo coppia quindi siccome quello che io ho costruito è il gene verde lui vede il gene verde e fa verde anche il suo gene risultato finale ho due geni verdi risultato finale quando la zanzara punge l'uomo col plasmodio il plasmodio viene ucciso all'interno della zanzara e l'essere vivente successivo l'uomo successivo non si amvalla di malaria non serve solo per la malaria lo posso usare per curare le malattie in Inghilterra un uomo con l'anemia falciforme è stato curato in questo modo taglio il gene malato e lo sostituisco con uno buono lo possiamo fare tutti? no perché l'intervento su un unico paziente è costato un milione di euro tanto per intenderci però all'inizio tutto all'inizio costa tanto ma se so come fare ho delineato la strada questa immagine qui è bellissima questo non è il tappeto del premio Nobel perché quell'anno il premio Nobel è stato dato a distanza perché c'era la pandemia era il 2020 è di un premio successivo ma l'idea di vedere queste due donne che si tengono per mano a me fa venire la pelle educa così le scienziate donne ci sono le donne si laureano più degli uomini eppure nella carriera accademica siamo lontani anni luce ancora dagli uomini perché se ogni dieci anni aumentiamo del 6% abbiamo una lunga strada anche a CERN dove c'è Fabiola Gianotti donna scienziata italiana unico direttore del CERN riconfermato per un secondo mandato non era mai successo nella storia del CERN l'80% di quelli che lavorano lì sono uomini e non donne sicuramente c'è un problema di stereotipi e lo stereotipo non è il razzismo è una cosa molto più sottile di così se per decine di anni centinaia di anni ci siamo sentite dire ogni santo giorno della nostra vita che gli uomini sono più adatti a fare gli scienziati che non siamo abbastanza aggressive per fare gli scienziati ma quando diventiamo aggressive ci sentiamo dire che siamo troppo aggressive per fare gli scienziati se io vado in una classe di una scuola superiore che deve partecipare a una competizione di matematica internazionale e comincio a dire giorno dopo giorno voi siete bravi certo che siete bravi ma vedeste i cinesi vedeste i finlandesi e lo dico un giorno due giorni dieci giorni un mese è sicuro che quando questi fanno la competizione performeranno peggio degli altri perché sono stata io a creare lo stereotipo c'è un problema di linguaggio Samantha Cristoforetti perché astro Samantha? c'è qualche altro astronauta a cui è stato dato un nomignolo non è divertente quando a me mi chiamano Michelino o Micheluccia non è che proprio sono contenta di questa cosa è un atteggiamento paternalista ma lo fanno anche le donne e non sto dicendo che questa è una cosa che fanno gli uomini se voi avete una commissione dove avete donne e uomini e avete due candidati a pari merito un uomo e una donna anche le donne tendono a scegliere più facilmente un uomo che una donna è stato misurato scientificamente quando Samantha è partita per la stazione spaziale per cinque mesi e questa foto è una foto strameravigliosa le domande tipiche erano quanti post-it hai messo sul frigorifero visto che te ne stai via cinque mesi e comunque la casa qualcuno la deve mandare avanti scusatemi questo è doppiamente offensivo uno perché mi stai dicendo che io dovrei stare a casa a mandare avanti la famiglia due perché stai dicendo che il mio compagno ha un inetto perché se devo lasciargli i post-it sul frigorifero perché mi mandi avanti la casa stai offendendo due volte quando lei ha fatto questa bellissima fotografia con i capelli al vento perché sulla stazione spaziale ancora la parrucchiera non l'ha mandata per essere chiari è stata insultata in tutti i modi le donne non si presentano così che cosa vuol dire non sei degna di essere una mamma se l'avesse fatto un astronauta uomo a parte il fatto che senza capelli va bene però uno con i capelli avrebbero detto la stessa cosa nel 2015 Tim Hunt vincitore del premio Nobel per la medicina nel 2001 si trovava alla conferenza mondiale del giornalismo scientifico a Seul nel 2015 c'erano già i social ha fatto il suo intervento e ha detto che lui vede un problema nelle ragazze quando vengono in laboratorio avere delle ragazze in un laboratorio è un problema per tre motivi si innamorano di te ti innamori di loro e ogni volta che le critichi piangono la cosa migliore sarebbe avere dei laboratori unisex o solo uomini o solo donne si è scatenato il putiferio c'erano già i social andate a cercare vedete delle foto di ragazze che avevano fatto un hashtag distrattamente sexy magari rientrando dopo aver fatto il carotaggio in Antartide piuttosto che con un cuore in mano perché stai tagliuzzando un cuore distrattamente sexy e lui ha dovuto rinunciare all'incarico di professore onorario che gli avevano dato e ha detto ma io cercavo solo di fare una battuta non è una battuta non è una battuta il linguaggio conta nel 1918 festa della donna al CERN di fronte a Fabiola Gianotti a un parterre di scienziati e scienziate il fisico Alessandro Strumia da Pisa che va bene aveva il dente avvelenato perché gli era passata davanti una donna una fisica donna a un concorso che secondo lui non era abbastanza brava come lui ha avuto il coraggio di dire che la fisica è stata inventata e costruita dagli uomini non è su invito se le donne dimostrano di saper vincere premi Nobel come ha fatto Marie Curie sono le benvenute Alessandro Strumia è considerato persona non gradita al CERN non è non ha senso questa frase questo è uno stereotipo di quelli ma questo è anche peggio di uno stereotipo questo signore e potete trovare la sua intervista è stato intervistato per una festa della donna dal CNR Lorenzo Gasparrini che si definisce filosofo e formatore femminista e fa attività di formazione presso enti scuole aziende università sulla questione della disparità di genere della disuguaglianza di genere quello che lui dice è che è estremamente complicato andare a identificare la disparità di genere perché ogni ambiente ha caratteristiche diverse ma quel che è certo è che se qualcuno vi dice qui non c'è disparità di genere allora è sicuro che lì c'è e alla domanda da parte della giornalista non tutti possiamo essere Albert Einstein o Marie Curie questo per i ragazzi non fa nessuna differenza perché per le ragazze sì lui dà una risposta che io trovo particolarmente azzeccata i ragazzi fanno scienza perché la trovano divertente importante intrigante utile utile all'umanità le ragazze non hanno esempi di scienziate normali per tantissimo tempo le donne non hanno potuto fare scienza quindi gli esempi che hanno loro sono di scienziate stratosferiche che hanno vinto il premio Nobel o altri riconoscimenti e siccome non si sentono all'altezza abbandonano prima manca la normalità il fatto che si fa scienza non per vincere il premio Nobel ma perché ci piace perché pensiamo di trovare soluzioni a problemi e questo è un messaggio che alle ragazze andrebbe dato la New York Filarmonica Orchestra per gran parte del ventesimo secolo non ha avuto nessuna donna nell'orchestra poi a partire dagli anni settanta il numero di donne è salito e poi è salito ancora prima da 0 al 10% poi oggi è quasi al 50% a uno varrebbe da dire fantastico hanno risolto il problema della disparità di genere certo che l'hanno risolto facendo quelle che si chiamano le blind auditions fanno le audizioni c'è che c'è un telo e tu non sai chi sta suonando senti solo la musica guardate che questo è potente ed è una dimostrazione di che cos'è uno stereotipo siamo abituati a ragionare in un certo modo tant'è che se io vedo se suona una donna o un uomo ho un approccio ho un giudizio diverso è questo che fa lo stereotipo e per sconfiggere gli stereotipi bisogna molto lavorare su se stessi sul proprio lungo agio sul proprio approccio in una riunione non è per niente facile perché l'atteggiamento paternalista è una cosa in cui cadiamo facilmente la Microsoft ha fatto delle bellissime indagini questa è un'indagine su 11.500 ragazze tra gli 11 e 18 anni gli ha fatto le interviste singolarmente e ha scoperto che le ragazze si interessano alla scienza fino agli 11-12 anni poi ai 15-16 anni perdono interesse nella scienza e a quel punto non lo riprendono più e le cose che sono venute fuori è che loro hanno bisogno di modelli di donne scienziate ma non Marie Curie e Margarita Hack per l'amor di Dio grandi scienziate ma sono morte hanno bisogno di scienziate in carne e ossa vere che fanno questo mestiere perché questo mestiere è bello e utile hanno bisogno di mentori che li supportano a me è capitato di andare in classi delle primarie dove quando facevo domande le maestre diceva alle bambine zitte voi che non capite niente lasciate rispondere loro se a otto anni nove anni dieci anni ti senti dire così e te lo senti dire tante volte ti autoconvinci che tu non sei adeguata a questa strada hanno bisogno di capire a che cosa servirà la scienza che fanno e soprattutto hanno bisogno di garanzie che avranno un trattamento equo non deve far differenza che io sia un uomo o che io sia una donna dobbiamo imparare ad avere fiducia in noi stesse ma soprattutto fare in modo che le nostre bambine e le nostre ragazze abbiano fiducia in se stesse perché la scienza non è dei maschi o delle femmine la scienza è dell'uomo con la U maiuscola il soffitto di cristallo non si rompe semplicemente avendo rettrici donne il primo ministro donne presidenti di aziende donne il soffitto di cristallo si rompe quando qualunque delle nostre bambine avrà la possibilità di scegliere unbiased senza bias la strada che vuole seguire grazie volete sapere come andate a finire con Marco gli scienziati sono maschi dopo due ore bellissime ero seduta per terra perché l'altezza era quella giusta e avevo Marco vicino e gli faccio allora Marco stanno d'accordo gli scienziati sono anche donne e a quel punto lui ha avuto quei 30 secondi di silenzio in cui ho visto i neuroni che si riarangiavano dentro i suoi occhi e poi mi fanno gli scienziati sono maschi e io gli faccio Marco mi dispiace allora io in questa classe non potrò più venire purtroppo a quel punto si è scatenato un putiferio incredibile e Marco per la prima volta nella sua vita ha capito cosa vuol dire essere in minoranza magari hai il saracco vediamo no volevo dire io sono un fisico medico e faccio fatica a dire che sono una fisica medica perché mi suona malissimo tu cosa ne pensi anch'io dico che sono un fisico ma anch'io dico che sono un fisico non mi viene da dire ma io sono il direttore di un dipartimento io ho fatto l'indagine nelle mie segreterie amministrative ho detto direttore o direttrice perché facciamo che lo scegliamo insieme Michela direttrice sembra proprio quella dei collegi d'inizio 1900 capito perché in qualche modo è entrata secondo me non è la parola in sé anch'io mi definisco fisico fisico per me è una categoria che non ha sesso non è né maschio né femmina mi viene normale dire sono un fisico delle particelle forse dovremmo lavorare su questo c'è un'altra cosa invece su cui dobbiamo lavorare sul linguaggio se voi ci fate caso questo l'ho trovato in un libro della Murgia non degli ultimissimi però questa mi ha molto colpita perché anch'io non ci avevo mai fatto caso quando si parla di un uomo voi dite non lo so i ragazzi di Vallazza le attività di Rossi quando parlate di una donna c'è un articolo davanti i ragazzi della Prest le attività che fa la Prest e l'articolo rende quello che c'è dopo una cosa in sé stesso e diminuisce l'entità che ci sta dopo e questo è difficile da correggere io ho avuto un laboratorio con tantissimi ragazzi ragazzi e ragazze una delle cose che faccio come docente soprattutto quando si ha che fare ho avuto delle ragazze molto brave dei ragazzi molto bravi ma anche delle ragazze molto brave le ragazze tipicamente stanno quattro passi indietro cioè il lavoro che fai come docente è cercare di lavorare sulla loro autostima per fargli capire che sono pari che non devono stare quattro passi indietro perché sono donne capita che all'interno i miei ragazzi non sono biased però capita è capitato che qualcuno di loro dicesse ad esempio ad Alessia che adesso è una dottoranda dai su vieni qua che proviamo a farlo vedrai che alla fine ci riesci anche tu li ho ribaltati perché ma non perché se l'avessero detto se si fossero fermati dai vieni qua che proviamo insieme è un dato di fatto dai vieni qua che proviamo dai vieni qua che proviamo che poi alla fine vedrai che ci arrivi anche tu è un colpo alla tua autostima e non te ne rendi conto non se ne è reso conto chi ha fatto la frase non se ne è reso conto chi l'ha ricevuta ma è qualche cosa che entra dentro di te mi è capitato recentemente che un collega dicesse per una questione di lavoro dicesse se vuoi ti aiuto io in dipartimento cosa che non avrebbe mai fatto con un collega maschio perché io sono il direttore del dipartimento a un collega maschio non l'avresti detto a me hai fatto una frase che in sé porta il fatto che io sono meno infatti io mi sono arrabbiata non tanto per quello che ha detto ma perché ha detto questa frase quando io ho fatto un periodo di lavoro al seno con cui ho lavorato con dei colleghi russi e io ero capogruppo quando facevamo le riunioni tipicamente avevo un mio studente da una parte e un mio studente dall'altra maschi io facevo delle domande quando loro rispondevano rispondevano allo studente alla mia sinistra o allo studente alla mia destra non mi guardavano nemmeno in faccia siamo andati avanti anni così certo poi vengono a darti la mano e dire senza di te non sarebbe successo questo ma siamo andati avanti anni io ho fatto anni di lacrime che dopo le riunioni andavo in bagno e mi mettevo a piangere perché ti senti veramente sminuita nella tua capacità ed è una cosa difficile da sopportare già le donne hanno di per sé la sindrome del com'è che si chiama dell'impostore no? si sentono mai adatte al posto che occupano quindi devo dimostrare in continuazione che occupano quel posto e che meritano quel posto sono tutti elementi che soprattutto se lavorano su ragazze giovani che magari sono ancora a scuola diventa complicato c'è un professore di filosofia che io trovo simpaticissimo e bravissimo in una scuola di Como in un liceo di Como che scherzosamente chiamava le sue ragazze galline ma lo diceva con un tono che era assolutamente scherzoso ti veniva da ridere quando faceva la battuta ma tu ti sentivi dire galline ed è una cosa che ti rimane dentro anche se non te ne accorgi è questo che crea lo stereotipo e vale per le donne e per gli uomini non è che le donne usano espressioni diverse o modalità diverse è veramente una cosa che richiede un'attività paziente perché quei numeri possano cambiare e richiede anche che si racconti la storia di queste donne la storia va raccontata abbiamo avuto poche scienziate ma quelle poche ci hanno veramente cambiato la vita ma quanti conoscono Dorothy Crawford Hodgkin probabilmente nessuno Rosalind Franklin un po' di più perché è stata fonte di una grande polemica al fatto di scoprire che le avevano rubato la scoperta Lise Meitner è un po' e un po' le due del 2020 io penso che nessuno le abbia mai sentite nominare e potrebbe essere il modo in cui creiamo le malattie del futuro ma nessuno le ha sentite nominare c'è bisogno di un cambio di prospettiva e invece ci accontentiamo di dire che abbiamo una donna primo ministro abbiamo delle donne presidente di azienda o abbiamo più rettrici di quanti erano è importantissimo ma non è quello che basta dobbiamo agire molto prima di questo mia nipote a cinque anni parlava di mestieri da maschio e mestieri da femmina io avrei ribaltato la sua famiglia ce l'avrei presa e l'avrei ribaltata e abbiamo fatto un lungo percorso di ragionamento insieme sul fatto che non esistono mestieri da maschio e mestieri da femmina non facciamoci ridere su questa cosa tu quando sarai grande puoi fare quello che ti piace di più punto punto una mia dottoranda una bravissima dottoranda quando ha avuto la prima figlia che amava costruire con legnetti qualunque cosa a un certo punto gli ha messo i legnetti in alto sull'armadio e gli ha preso la cucina ha chiesto la cucina no ma si fa così ed era una mia dottoranda ma nel litter che abbiamo imparato questo è quello che succede e quindi per eliminare lo stereotipo bisogna agire sugli atteggiamenti sul linguaggio e sugli atteggiamenti probabilmente dovremmo dire sono una fisica delle particelle e non un fisico delle particelle ma è talmente dentro di noi che facciamo fatica a dirlo ed è uno stereotipo il mio è un commento da persona un pochino più giovane in generale e che magari non so quanto può essere una riflessione perché grazie al cielo siamo tanti e siamo di diversa età però come lei giustamente ha detto se lo ripetiamo ai bambini tutti i giorni tu no tu no tu no lo si interiorizza allo stesso tempo io sono una fisica io sono una dottoressa in linguistica e sono fiera di dire che sono una dottoressa in linguistica alla fine cambia piano piano perché ce ne sono di mille da considerare e il linguaggio è solo una delle minuscole parti del mondo ma essendo una delle più usate sappiamo quanto possa essere potente quindi già anche partire da noi perché sono del parere che non è mai troppo tardi che si abbia 40 anni 10 50 80 mia nonna ha iniziato adesso a capire questa cosa e ne ha 85 un po' di più non è mai troppo tardi quindi spero rimanga solo questo se parliamo in inglese un physicist è un physicist e uno non dice I'm a male physicist o I'm a female physicist non gli viene neanche per l'anticamera del cervello di dire questo non è solo una questione di linguaggio è una questione di atteggiamento anche nelle scuole è una questione di atteggiamento nelle scuole che secondo me è fondamentale è fondamentale ci siamo sentite dire per secoli che noi siamo più adatte alle materie umanistiche che alle materie scientifiche la frase che ho detto prima tutto quello che vi ho riportato è tratto da ovviamente studi scientifici che noi non siamo abbastanza aggressive per essere delle scienziate se una di noi batte i pugni sul tavolo si sente dire che è in quel periodo del mese qualcuno si permetterebbe di dirlo a un collega maschio no dire si guarda quello lì è veramente il capo che voglio avere è uno tosto abbattuto i pugni sul tavolo per prendere in mano la situazione se lo facciamo noi siamo isteriche siamo isteriche cioè proprio questa cosa qui cambiare questa richiede tanto tempo e tanta fatica e tanta attenzione da parte di ciascuno di noi e quando uno è un docente richiede ancora più attenzione ancora più attenzione perché il nostro modo di fare potrebbe essere biased in un senso o nell'altro non sto dicendo che in un caso è così e nell'altro caso no potrebbe essere biased in un senso o nell'altro e quindi richiede particolare attenzione resta il fatto che così poche donne ai massimi livelli nella scienza è un problema per un paese perché in un paese serio dovrebbero essere gli scienziati che determinano lo sviluppo tecnologico l'agenda tecnologica del paese e se attorno a quel tavolo siedono solo uomini ci perdiamo delle idee non è giusto o sbagliato non c'è niente di giusto o sbagliato ma ci perdiamo delle idee e questo è un problema un'altra delle cose che ha detto Gasparrini che non ho messo lì è che una delle problematiche e anche questo è frutto di osservazione che lui ha fatto è che in un contesto in cui una riunione è presieduta da un uomo e una donna interviene e gli viene detto no guarda di questo parliamo la prossima volta no senti questo vabbè più o meno l'abbiamo già visto chi se ne frega lo vediamo un'altra volta alla prima volta ok la seconda volta ci riprovi la terza volta non parli più se attorno a un tavolo che siano maschio femmine tu fai una cosa di questo genere di nuovo tu perdi idee perché alla terza volta che io mi sento dire non mi interessa quello che hai da dire mi zittisco non parlo e questo succede più spesso con le donne che con gli uomini perché abbiamo un approccio diverso determinato dalla nostra storia e quindi chi presiede una riunione deve essere molto attento per non cadere in una cosa del genere ancora più del linguaggio deve essere attento all'atteggiamento che ha a come presiede la riunione sarebbe utilissimo che in tutte le scuole ci fosse un percorso di formazione su quello che può essere chiamato un gender bias guardate che vedere una maestra dire zitte voi che non ne sapete niente lasciate parlare loro cioè a parte il fatto che io la volevo uccidere questo è un dato di fatto però cioè va bene tu rimani veramente sterrefatto perché ti chiedi come sia possibile una cosa del genere guardate i libri di testo delle scuole primarie e guardate le immagini dei libri di testo quando abbiamo fatto poi dopo tutto questo percorso noi ci siamo resi conto che nel 2013 abbiamo avuto un problema di linguaggio perché noi abbiamo chiesto fai un disegno per me lo scienziato è fatto così non abbiamo chiesto chi fa scienza è fatto così quindi noi ci siamo resi conto a posteriori che avremmo dovuto cambiare la domanda però vi assicuro che nel momento in cui siamo entrati nelle classi ed era una donna a capitanare l'attività entusiasmante avete visto le immagini i volti i visi uguali di bambine e bambini i disegni dopo riportavano una donna l'esempio conta tantissimo tantissimo volevo fare questa domanda visto che stasera molte storie cioè sono state raccontate molte storie anche molto interessanti devo dire che almeno due scienziate non le avevo mai sentite nominare quindi diciamo che già questo è molto e volevo forse chiedere un'altra storia ovvero come te ti sei appassionata alla scienza cosa ti ha fatto decidere questo è il mio percorso e non è la poesia non è la letteratura o qualsivoglia cosa allora io rubavo il meccano a mio fratello questo è il primo punto le mie nonne mi regalavano le bambole io le svestivo gli toglievo le gambe le braccia che non è probabilmente mia mamma avrebbe dovuto pensare che in un futuro forse doveva un po' preoccuparsi mi è sempre piaciuto fare costruire e osservare la fortuna è stata una famiglia che non ha mai messo i bastoni tra le ruote quando alla fine delle superiori ho detto a mia mamma voglio fare fisica mia mamma mi ha guardato mia mamma era sarta mia mamma è sarta mio papà era un metalmeccanico mio papà mi adorava perché amiamo entrambi la matematica quindi noi facevamo i conti a mente facevamo le moltiplicazioni increscendo avevamo proprio questa passione e l'animo invece artistico è dalla parte di mio fratello e gli ho detto mamma voglio fare fisica e mia mamma mi ha guardato e fa non vuoi fare chimica? no no mamma io voglio fare fisica ma senti lingue? no mamma cioè ti giuro io voglio fare fisica vado a fare fisica e mia mamma fa ci ha messo un po' ha fatto passare un quarto d'ora poi è tornata lì e fa senti scusa ma un fisico che cosa fa? mi ha detto ecco mamma questo magari te lo racconto dopo quindi non mi hanno mai messo i bastoni tra le ruote mi hanno sempre supportato devo dire che tutto il resto della famiglia ha detto chiaramente a mia mamma quella è femmina deve sposarsi e fare figli testuali parole e mia mamma ha detto no lei studia perché io non ho potuto studiare è giusto che lei possa fare quello che vuole nella vita senza che nessuno le imponga che cosa deve fare e questa è stata la fortuna dopodiché io avevo questa passione innata per la scienza volevo capire che cosa stava al di là e quindi ho deciso di fare la fisica poi mi sono innamorata della fisica sperimentare delle particelle elementari e sono diventata una fisica sperimentale delle particelle elementari e anche al CERN quando ho cominciato le donne erano veramente poche ti trovavi a lavorare in un gruppo di soli uomini tipicamente o andavi a interagire nell'officine con soli uomini quindi questa diventa un'abitudine a un certo punto questa cosa quando loro ti accettano non senti più la differenza la cosa importante all'inizio è farti accettare però e mi piace avere ragazze che lavorino con me mi piace tantissimo che nel mio gruppo ci siano anche delle ragazze perché trovo che questo perché sono brave perché sono brave questa è la cosa importante ce l'hanno dentro quando hanno una passione quello che conta è la passione alla fine non te ne frega niente se sei maschio o femmina conta la passione e basta io vorrei che la mia nipotina che adesso ha 8 anni qualunque cosa voglia fare nella sua vita possa scegliere che cosa fare e questo dovrebbe essere in qualsiasi parte del mondo secondo me è molto bella questa cosa che conferma le parole di che sta qui nasce tutto da quella voglia di divertire se io faccio scienza voglio divertire non mi prega assolutamente niente del nome voglio far schiampare le particelle una rossa l'altra assolutamente e soprattutto impari che magari quel pezzettino di lavoro che fai un giorno farà parte di un puzzle più grande che cambierà la storia e non te ne frega che sia un pezzettino perché quel pezzettino è tuo quindi è questo il messaggio e i ragazzi questo lo sanno bene per le ragazze è ancora più difficile è ancora difficile non è ancora abbastanza normale direi che hai lanciato un messaggio importante c'è una riflessione insomma che tutti ci hai portato a fare indubbiamente il mondo dell'educazione deve fare molto in questo perché appunto queste cose che succedono purtroppo succedono appunto che possono creare disistima disincentivare va bene grazie quindi direi di salutare grazie grazie a tutti